A Lecco i cacciatori stanno ritirando i tesserini proprio in questi giorni. La caccia di selezione al cinghiale dovrebbe prendere via la settimana prossima. Intanto sono stati 566 gli esemplari abbattuti in provincia nelle ultime due stagioni venatorie. Ci siamo mossi subito per dare piena attuazione alla nuova legge regionale che prevede la possibilità di effettuare la caccia di selezione al cinghiale durante tutto l'anno, anche nelle ore serali con visore notturno e che ha diversificato il periodo relativo alla caccia di selezione per altri ungulati, spiega l'assessore regionale Lombardo all'agricoltura Fabio Rolfi. Ricordo che abbiamo anche introdotto la possibilità di utilizzare la tecnica del foraggiamento, ossia il posizionamento di piccole quantità di cibo per attirare il cinghiale. La Lombardia dimostra con i fatti di essere all'avanguardia nazionale nella gestione della fauna selvatica. Abbiamo predisposto interventi provincia per provincia per contenere un animale che sta devastando le coltivazioni e che rappresenta un pericolo per la sicurezza dell'uomo, come dimostrano i dati. In Lombardia abbiamo un incidente ogni tre giorni causato dai cinghiali. Nella stagione 2019-2020 in Lombardia sono stati abbattuti 9200 cinghiali, bene 1827 in più rispetto alla stagione precedente. La caccia di selezione è un metodo efficace e concreto per aiutare l'agricoltura. Continua Rolfi, i capi abbattuti in selezione infatti sono passati in un anno, da 2324 a 3118. Questa attività deve essere però sostenuta da norme avanzate, la legge nazionale ormai è anacronistica. A livello Lombardo, ha concluso l'assessore, stiamo facendo il possibile per contenere nella cornice normativa nazionale una proliferazione continua.